secondo me ieri quando sei morto con i villager non hai ripreso tutto ma tu eri morto dentro l'acqua marco davide guarda guarda chi ci sta dentro al recinto dei maiali senza avvicinarti troppo da c'è il carbone porco dove dove sono morto io sono caduto e sono morto hai trovato? si stava sopra di noi mentre stavamo a scendere le scale e noi non ce l'ho mai cagato ah la stava davanti e qua quasi scavo pure acqua mi piove pure il rame ho raccolto 23 di carbone praticamente adesso ma hai trovato pozzo della vinta lì c'è qualcuno che ha fatto ma no ci sta allora ora che fa che stava un posto da totno amo visto perché non c'erano la roba aspetta faccio un bel palo così non lascia più nessuno saggiù porco insomma un agitore di un muschetto ecco qua c'è dell'acqua ma qua c'è del metallo c'è da qua c'è da loro da buono 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 aspetta aspettate a c'è marco dunque a mezzo d'oro in mezzo stai scusami eh ma questo c'è intanto mi ha impagucchio con i controlli bruscia tutto hai visto eh si mi ha messo mezzo con un attimo che devo mangiare mi metto che è vero di questo ce la fai mangiare si ce l'ho la roba ma dice che dobbiamo scavare no da dobbiamo uscire per posare tutto perché ho finito lo spazio non c'ho più niente io grazie a tutti sta piovendo fuori davide c'è uno stronzo di creeper che è esploso ed è uscito mentre noi stavamo salendo probabilmente aveva rotto anche la scala ah dai ti ricordo che sull'autore di sinistra ci sta un altro villaggio e non intanto dobbiamo andare a esplorare vedete se andranno a città siamo troppati qualche cosa anzi da male guarda la cittina qua vediamo se abbiamo cittina da cucinare qua allora qua pane 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 non c'è niente ma no no un'altra volta in funzione ma qua stanno sempre questi ragazzi ma non è possibile sti cazzo di creeper dio porco che è successo sei morto oh sono dici volte che è esplodono sono patuto quanto non ti cappati di merda oh oh sono andato al manico sei morto? no no c'ho la mia super spadina in oro ah dai dovevamo costruire il ponte che porta direttamente al portale? eh il porta al portale? eh il portale quello che sta laggiù la eh come lo facciamo però? eh di legno intanto gli alberi non mancano facciamo prendiamo il legno e facciamo gli assi di legno aspetta alberi non mancano lo capire quanto è lontano fino a raggiù eh no vabbè penso che con 64 64 64 guarda te la faccio e io continuo il mio operario eh vabbè giusto il ponte io stavo continuando a fare qua ok perfetto ah l'hai fatto così lì in ceridore ok ci hai fatto questa specie di appunto tipo fontana perchè almeno così evitiamo di caderci dentro come va bene io chiedo non puoi vedere quante snarbande le varie dalla terra quando le tue ponte si rompono dopo dieci colpi eh lo so non puoi vedere quante snarbande le varie se non puoi vedere quante snarbande le varie non puoi vedere quante snarbande le varie aspetta fammi venire pure a me però vogliamo entrare per trovare qualche prendere qualche cosa o solo per dare un'occhiata e poi ce ne ritorniamo a casa? no no diamo giusto un'occhiata perché se no ci fa sponare ok allora intanto vengo a posare cose perché sono pieni roba inutile davanti al blocco di magma che pigli fuoco vogliamo? andiamo? vai 1 2 3 zoom no deve stare il cilindro wow